Ri buona domenica a tutti belli e brutti, un bacione da Michelone Oggi altre partite dopo aver visto anche lo scandalo di ieri Lo scandalo dei primogoli agghiacciante Un altro aiutino da parar giù Purtroppo sono gli anni che vengono aiutati loro, inutile ragazzi E' inutile, è inutile Allora intanto facciamo i complimenti a Pippo Enzaghi che è stato di nuovo esonerato Grande Enzaghi Non c'hai niente da spartire con il fratello Tu eri più forte come giocatore, ma era forte anche Simone Enzaghi, era un buon giocatore Ma tu eri più forte come giocatore e come allenatore fai schifo Lui era meno forte come allenatore, però come allenatore è forte E' cresciuto molto Questo bisogna dirlo, comunque complimenti a Pippo Enzaghi che è stato esonerato Veramente tu sei all'altezza di Aldo Agroppi Quelli che hanno qualche anno come me, vi ricordate Aldo Agroppi? Quello che era famoso per aver allenato la Fiorentina Era mi pare Fiorentino a lui Che era il re degli esoneri Pippo Enzaghi sta superando Aldo Agroppi Eh ragazzi Sì 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 Complimenti a Pippo Enzaghi Grande grande Pippo Pippo Allora ragazzi Vi voglio mostrare una cosa No? Perché Cominciano a venire tutti dalla mia parte Anche i giornali Dove cazzo? No, non sarà mica sparito No? Ma porca di una puttana Incredibile Ma no Ma no Ma vaffanculo Hanno già cambiato tutte le notizie Perché vado su Google Chrome Sapete che ci sono le notizie Le notizie Che vediamo se lo trovo Abbiate pazienza a momento La 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 Padovan Conte è già della Juve Poi c'era quell'altro 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 articolo Ma porca miseria L'hanno già cambiato L'hanno già cambiato Conte e Juve Mai fatto Insomma tutte Vedete che Vedete come Come vi dico io Che Io sono già Sono già Io vi dico una cosa Allegri è già fuori Allegri è già fuori E ve lo dico anche Soprattutto per la Merda di partita Che ha fatto con l'Inter E ve lo dico Che questa Quella partita Ha fatto incazzare molto È Il Can e Company Ha fatto incazzare molto Per l'atteggiamento Della Juventus Contro l'Inter Anche perché L'Inter All'andata Ci hai pareggiato Ci hai fatto Con una bella figura Con l'Inter L'altro anno L'hai battuta Andata e ritorno L'Inter Perché hai fatto Quella partita di merda Vorrei saperlo Giocatela Almeno Hai visto la Roma ieri Almeno giocatela No porca miseria No Niente ne ne Guardate veramente Io dico ai Mottisti No A quelli che Dicono Che dicono Che dicono Che arriverà Tiago Mota Io non Per me no Per me no Per me no A parte le dichiarazioni Che lui ha fatto A De Laurentiis Che lui ha detto a De Laurentiis Che lui voglia andare Ad allenare all'estero Una grande squadra Mi pare che c'è l'Arsenal Adesso è venuto fuori Anche il Manchester United Quindi Quindi No La Juventus Va Ve lo ripeto Per l'ennesima volta La Juventus Va su allenatori pronti Pronti e fatti La Juventus Tu non puoi dare in mano Una squadra A un prospetto Io ho sentito Io ho sentito A parte i Mancini Che Mancini Ormai è finito Anche quello lì Quello lì ha vinto Un europeo Non sa neanche lui come Non sappiamo neanche noi Come l'Italia Ha vinto Un europeo C'è Veramente Tanti lo dicono E questo ancora Che lì Che non sanno Come l'Italia Ha vinto Quell'europeo Gli astri Intersecati Messi bene No Quindi Mancini Tempo fa Era un buon allenatore Ma Siamo a perdere Mancini Poi sento Gilardino Ho sentito anche Gilardino Madonna mia Santa Vergine Dolorata Cosa devo sentire Poi c'è un ragazzo Qui che mi ha detto Gasperini Gasperini Per l'esperienza Che ha Ma secondo me Ma non credo Per via del fatto Che si è lasciato male Perché lui allenava La primavera Della Juventus Si è lasciato male Ormai ci sono passati Anni 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 Quindi No ma Gasperini E' uno che va bene Per quelle squadre Tipo Atalanta Che con i giovani Alla Juventus Verrebbe subito criticato Perché anche Anche All'Atalanta Che ha fatto Uno dei più bei giochi Degli ultimi anni Anche Anche europei Cosa ha vinto L'Atalanta Niente Non ha vinto neanche Una Coppetta Italia Guardate in classifica Dov'è L'Atalanta E i giocatori Ce li ha Quindi No Gasperini Si Allora Guardate Al posto di Allegri Ha anche Topo Gigio A mettere in panchina Anche Topo Gigio Però Quei Allenatori Lì Io ve lo ripeto Per me Tiago Mota Non viene Prima di tutto Ovviamente Ve lo ripeto Ancora La Juventus Parla con tanti Allenatori Sonda Per non rimanere In braghe di tela Come diciamo Dalle nostre parti Però Io ragazzi Sono convinto Che tornerà Conte Alla Juventus Perché lui Ha bloccato Tutti Tutti Ma sapete Quante offerte Ha avuto Conte Dall'Inghilterra Dall'Inghilterra Dalla Spagna Dall'Italia Casindia E lui ha detto No Tutto Ha declinato Tutto Al Milan Devo dire Che l'ha lasciato In stand by Stranamente E perché L'ha lasciato In stand by Il Milan Perché lui Aspetta ancora La Juventus Giriamo Sempre lì Giriamo Sempre lì E per me Torna lui Poi vi ripeto Per Marotta Non lo so Questo su Marotta Sapete che lì A casa Inter Lì Che è tutto un casino Non lo so Se lì Quanti vorranno Scappare via Vedete anche Anche Lautaro Lì Che Vuole più soldi Vuole più soldi Vuole più soldi Quando 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 fanno così È per Per scappare via Ragazzi È per scappare via Quindi Io continuo a dire Tanto faccio Deve complimenti A Pippo Anzaghi Per l'esonero E poi Ma ci sono Sempre più 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 giornali Che dicono Contra la Juventus Per cui Quindi Dico ai milanisti Non illudetevi tanto Perché rimarrete male Io Penso Io Se fossi In un milanista Andrei più Sui profili Non so Tudor Tudor Ma addirittura Metto E metto davanti Anche Spalletti A Tiago Motta Perché Spalletti Guida la nazionale Sì ma dopo L'europeo Farà l'europeo Ovviamente Dopo l'europeo Avete visto anche Conte Conte ha fatto l'europeo Poi è andato via A allenare il Chelsea Quindi Io metto addirittura Spalletti Perché Spalletti Doveva venire la Juventus Quest'anno Sapete è stato bloccato Da De Laurenti Che gli ha fatto Quella clausola Quell'inghippo Per non farlo venire Alla Juventus Spalletti era già La Juventus E non si è fatto niente Abbiamo dovuto Tenersi becca morto Ma io vi dico Che il becca morto Questo è l'ultimo anno Per me Torno Antonio Conte E seconda scelta Addirittura metto Spalletti Spalletti Poi Ragazzi Ognuno È padrone Di pensarlo come vuole Però Però Ragionando Ragionando Quindi Ragazzi Poi Se verrà qualcun altro Chiederò scusa Chiederò scusa Perché Perché è giusto così Questo volevo dirvi Adesso Oggi ci guardiamo Il Milan Milan-Napoli Sono proprio curioso Di vedere Sta partita come va Noi giochiamo lunedì Ovviamente Noi giochiamo lunedì Perché? Perché c'è Sanremo Mi ero dimenticato E pensavo Ma perché cazzo Non ha messo le partite La partita della Juventus È lunedì Eh Sanremo Però Sanremo Mi tocca aspettarla Juventus domani Allucinante Allucinante Domani ce li hai tutti Guarda che domani Ce li hai tutti Allegri Non voglio Guarda guarda Che se mi pareggi O perdi con l'Udinese Io Io non lo so Cosa potrei fare A questo punto qua Perché adesso C'è da blindare Il secondo posto Per darti giocare Nella Supercoppa C'è da blindare Il secondo posto Adesso vediamo Che Milan-Napoli Di cosa succede oggi Perché Milan Non ce l'hai facile Con questa Napoli Qua in ripresa Il Napoli In ripresa Ragazzi Quindi non ce l'hai facile Milan Però noi Adesso abbiamo tre partite Lo ripeto Udinese Verona Frosinone Qui voglio nove punti Non me ne frega un cazzo Voglio tre punti Poi dopo vedremo Napoli Lazio Tutte quelle lì Le vedremo Vedremo dopo E ce li hai tutti Tutti a disposizione Non c'hai uno fuori Sì Adesso vediamo Lì Infortunati Se recupera Vlaovic Magari C'è Milik Ildiz Lì Chiesa Ci sono Io penso Io penso ancora Che c'era Il toto Lukaku Al posto Di Vlaovic Se penso Lukaku Di ieri sera Ancora Mi viene La febbre Iscrizione al canale Like Campanellina Un bacione A tutti i beni e brutti Ci vediamo La prossima Ragazzi Mi raccomando Iscrizione al canale Sempre Sempre Forza Juve Mi raccomando Sempre Forza Juve Sostenete la Juventus Mi raccomando Sostenete la Juventus Mai mollare Sempre Forza Juve Intermerda Soprattutto Intermerda E ci vediamo La prossima Fatti bravi E buona domenica